E oggi davanti al palazzo della regione il forum energia e territorio ben comuni di Puglia ha protestato contro la politica energetica della regione che a detta dell'associazione sta recando dolori, sofferenze e devastazioni al territorio a danno dei cittadini. Giunti da tutta la Puglia i manifestanti hanno chiesto al Presidente Vendola la moratoria di tutti gli impianti industriali di energia rinnovabile per l'avvio di una nuova bonifica del paesaggio pugliese.